Musica Quasi il 90% dei 10 miliardi di tagli all'IRPEF che a partire dal prossimo mese di maggio i lavoratori dipendenti troveranno nelle buste paga saranno spesi per fare nuovi acquisti. A sostenerlo è la CGA di Mestre. Se le famiglie interessate dalla sforbiciata dell'IRPEF manterranno una propensione al consumo media individuata sulla base dell'ultima indagine campionaria che secondo la Banca d'Italia è pari all'88,6%, dei 10 miliardi in più che questi italiani riceveranno in busta paga, 8,86 saranno spesi per fare nuovi acquisti mentre i restanti 1,14 miliardi verranno risparmiati. I settori che beneficeranno di questa ripresa dei consumi saranno, secondo il segretario della CGA Giuseppe Bortolussi, innanzitutto gli alimentari e le bevande con una spesa che aumenterà di oltre 2,3 miliardi di euro. Altri 2 miliardi interesseranno i trasporti e quasi 1,3 miliardi gli altri beni e servizi che includono gli acquisti dei prodotti e dei servizi per la cura della persona, i passi fuori casa e gli alberghi. L'abbigliamento e le calzature registreranno un aumento pari a 670 milioni, mentre i mobili e gli elettrodomestici per la casa un incremento di 588 milioni di euro.